ho scelto come grafico del giorno il cambio euro dollaro ho scelto il cambio euro dollaro perché perché c'è stato tanto come dire si conferma nella in tutta la sua ampiezza questo grande box di oscillazione che dura da un oltre un anno oltre un anno e mezzo insomma oramai si può dire e quindi quasi due anni tra poco saranno due anni quindi è una situazione molto particolare nel passato difficilmente si è trovato un box così stretto durato così a lungo su un cambio di questo livello va bene diciamo che ci si poteva aspettare che quest'area potesse tenere invece non è così probabilmente il cambio si sta rivolgendo verso il livello inferiore parliamo di 1 0 8 non lontano dai valori attuali questo sembrerebbe essere il supporto importante perché parlo oggi di euro dollaro perché sicuramente sul cambio agirà come market mover la decisione della bce riguardo i tassi di interesse che verrà comunicata alle 14 15 ricordo che lo seguiremo in diretta con peter vitolo ops e eugenio e compagnia e ricordo anche che ricordo anche che poi alle 14 45 ci sarà la rassegna la conferenza stampa di christine lagarde e soprattutto le parole di christine lagarde potrebbero avere degli effetti no ok quindi molto importante il recupero che sta avvenendo sul sul cambio euro dollaro da parte del dollaro se andiamo a vedere più nel dettaglio si vede molto meglio qui come diciamo così quell'area tutta quest'area di supporto che si muove tra eh 1 0 9 praticamente 1 0 9 50 questo livello qua non ha tenuto non è riuscito a contenere diciamo il recupero forte del dollaro presumibilmente sarà appunto quest'area appena sotto una 0 8 a fungere da prossimo supporto se raggiunta evidentemente questo è tutto da verificare la sequenza di sedute con candele rosse ce n'è stata una sola verde ma minimale no è veramente eh importante è di quelle che dicono che c'è un vero e proprio mini trend di breve periodo evidentemente ma molto radicato lo vedete dal tipo di movimento grafico che non ha mai diciamo soluzione cioè è sempre molto lineare quindi direi di prestare attenzione